Meraviglioso vederti qui, sono davvero felice oggi perché parleremo di un tema a me molto caro e cioè come creare il tuo lavoro ideale o reinventare quello che hai semplicemente facendo leva sui tuoi veri talenti. Oltre al 70% degli italiani afferma di essere insoddisfatto del proprio lavoro e se pensi che trascorriamo al lavoro circa un terzo della nostra vita, parliamo di 70 volte anche 90.000 ore, fare qualcosa che non ami o per qualcuno che non riconosce il tuo valore è una vera violenza. Io stessa anni fa ho quasi permesso ad un lavoro che non amavo di rovinarmi la salute e ti assicuro che non ne valeva davvero la pena. In questa nuova masterclass con Lucia Giovannini scoprirai come reinventare il tuo lavoro attuale alla luce dei tuoi punti di forza o come crearlo da zero, trovando il coraggio di cambiare per realizzarti a pieno senza sacrificare la tua stabilità o quella della tua famiglia. Insieme a Lucia parleremo di come capire qual è la tua vera chiamata anche quando pensi di non averne una. Come capire quale delle tue passioni seguire, quando ti sembra magari di averne un pochino troppe. Poi faremo una visualizzazione guidata per individuare i tuoi punti di forza e parleremo della chiave per scoprire e creare il tuo lavoro ideale di cui ahimè non parla nessuno. E naturalmente non ci dimenticheremo di scoprire come trovare il coraggio di cambiare quando è l'unica alternativa che ci resta. Accontentarci di un lavoro che non amiamo solo perché lo fanno tutti non è una buona ragione. Il tempo è una risorsa limitata e non è rinnovabile. E allora non sprechiamo in una goccia di più perché è il momento di realizzarci a pieno. Ci vediamo alla Masterclass!